Allora, io sono qui. Voi mi sentite? Spero di sì perché non ho cambiato niente. Ciao a tutti. No? Non capisco perché. Mi dispiace veramente tanto ma il microfono è attaccato. Funziona? Allora. Adesso? Mi sentite? Ho cambiato qualcosa? Ci sei? Funziona? Perfetto. Ok. Grazie mille per la pazienza signori... Signori studenti. Ok, non so quale problema tecnico ho avuto. Abbiamo perso 20 studenti. Tornate, studenti, tornate. Voglio 100 studenti in questo show. Dicevo benvenuti a questo nuovo live stream di Italy Made Easy. Io sono Manu Venditti, il tuo insegnante preferito, spero, di italiano. E insieme facciamo queste attività divertenti e utili. Attività didattiche. Cioè attività che servono per imparare l'italiano in un modo divertente. Allora, oggi facciamo un game show. Ok? Un gioco a premi. Allora, questo gioco... Uh, si vede il microfono. Questo gioco a premi ha domande di livello un po' alto. Ok? Intermedio. Perché c'è l'imperfetto, il passato prossimo. Ma se tu sei di livello inferiore non ti preoccupare. Gioca comunque. Gioca lo stesso. È una cosa divertente. Come sai io parlo italiano in un modo chiaro. in maniera lenta, possibilmente. E siamo pronti fra poco per cominciare. Io volevo salutare tutti. Abbiamo 118 studenti. Perfetto. Adesso sì, sono contento. Sono contentissimo. Allora, salutiamo qualche studente. Abbiamo... abbiamo qualcuno dalla Germania. Come non mi sentite? Some people say that you can hear me, some people say that you cannot hear me. Mi sentite? Ok. Ok, perfetto. Questo show è dal vivo, è live. Ma tu sei live se tu vedi la piccola... il quadratino che dice live, rosso. Se tu non vedi live rosso, tu non stai vedendo live, ok? Ripeto in inglese. You might think that you're watching this live, but it's not live unless you actually see YouTube telling you in red this is live. Ok? If it's not read and it says live, it just means that it's recorded live. Ok? That's the confusion. Ok, perfetto. So they're telling me that you might need to reload the page. Reload the page. Ok, cominciamo. 135 studenti pronti per questo quiz. Abbiamo ancora 2-3 minuti di attesa. Aspettiamo. E abbiamo tanti studenti che conosco. Tanti studenti che sono miei studenti su Italy Made Easy Academy. Ciao a tutti. Ho visto Diane, ho visto... chi ho visto? Gigi, Melanie, Veronica. Tutti studenti che io conosco molto bene o abbastanza bene. 145 studenti. Perfetto. Allora, per... per partecipare a questo quiz vi serve... vi servono due cose. o... vi serve un... uno strumento per vedere il video, quindi il telefono, il computer, il tablet, per vedere il video e un altro strumento per rispondere. Quindi se sei al telefono è difficile partecipare perché devi vedere il video e rispondere su... nel browser. Quindi se hai un altro telefono vai a prendere un altro telefono. O se hai un computer, perfetto perché usi due tab. Perfetto, ok? Allora, 154 studenti. Benvenuti a tutti all'Irlanda. Harry, ciao a tutti. Abbiamo studenti in tutto il mondo, come sempre. Continua un attimo questa breve chiacchierata prima di cominciare il quiz. Ho detto che ci sono i premi. Premi. Prices. Sì, in questo gioco vi do dei premi. Che cosa sono questi premi? Allora, come sapete io ho una mia accademia online con tutti i miei corsi, incluso From Zero to Italian che è il corso migliore per imparare l'italiano per anglofoni. Quindi se la tua madrelingua è l'inglese, From Zero to Italian è il corso migliore sicuramente perché facciamo molta pratica di parlare, di conversazione, di comprensione, non solo esercizi di grammatica, ok? Quindi i premi di questo show sono... Allora, accesso alla mia accademia per un anno... Tutti i corsi. Puoi fare il corso che vuoi. Puoi fare un corso, puoi fare dieci corsi, non importa, ok? Quindi un anno di accesso alla mia accademia. Tutti i corsi che vuoi. E poi ho altri premi. Altri premi che sono... Ve lo faccio vedere, non so se posso farvelo vedere. Vediamo se ve lo posso far vedere e se funziona ancora perché... Mi sentite? Scrivetemi se mi sentite adesso. Perché se io cambio finestra e voi non mi sentite non va bene. Mi sentite? Sì, perfetto, ok. Allora... Questa è la mia accademia e una cosa che noi facciamo in questa accademia è questo. Ti faccio vedere questa cosa qui che si chiama amico extra. Con amico extra... Adesso torno. No? Eccomi. No? Aspetta, aspetta. Ok. Amico extra è un servizio che noi offriamo dove potete chattare con noi italiani. Fare una videotelefonata e praticare l'italiano tutti i giorni. Abbiamo un calendario con scritto noi siamo in chat alle 5 e se tu sei in chat possiamo parlare in italiano. Possiamo fare videochiamate, è una cosa molto 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 utile. Poi facciamo masterclass speciali per amico extra. L'altro... Ieri? L'altro ieri ho fatto una masterclass di tre ore sulla pronuncia italiana. Abbiamo lavorato sulla pronuncia di due studenti. Sì, è stato bellissimo. Allora... Quindi... I premi... C'è un anno di accesso illimitato alla mia accademia. E poi abbiamo altri tre premi... Tre premi che sono accesso a questo servizio. Questo servizio dove puoi parlare italiano con noi tutti i giorni. Quindi spero di aiutarti con questa cosa. Siamo pronti per il quiz. Siamo pronti, abbiamo 160 studenti pronti per il quiz. Una cosa importante. Per partecipare a questo quiz devi essere live. Perché le domande che tu vedrai sul telefono sono live. Again, to participate in this game and win the prizes, you have to be doing this while it's live, because I will send you to a page, but you will only see the questions if you are right now live. So if you're not right now live, you're watching a recording, you cannot participate, ok? You can still play the game and learn, but you cannot participate. All right. Perfetto. Allora, cominciamo, cominciamo. Abbiamo cento sess... Centocinquantasei studenti. Wow. Yeah. Violet. Dove rispondiamo? Ok, I'll tell you in a second. Dove rispondete? Sul... Su un tab, un browser. Ok? Un'altra pagina del tuo browser o sul telefono. Adesso te lo dico. Basta andare a questo sito www.menti.com. www.menti.com e inserire il codice 77 57 84. Mi prude il naso? Ancora di più. 77 57 84. Quindi potete andare a www.menti.com. Per questo serve un altro browser. That's why I said you need two devices if you're on your mobile. Because if you go to the website you can't see YouTube. Allora, menti.com e inserire il codice 77 57 84. Ok. Allora, adesso spiego come funziona e lo spiego in inglese. I will be showing you a question and you will be seeing that question on your mobile or wherever you're looking at that mentee page. The moment I ask the question you will have 20 seconds to respond. So you have to look at the monitor... Your telephone or whatever you're looking and answer quickly. You get points for getting the answer right. You get points for being the fastest. Perfetto. Non potete rispondere in chat. Cioè puoi rispondere in chat. Sicuramente. Ma non puoi partecipare al premio. Let me explain why. For the first time in this game show I will have to ask for your name and email. Because it's the only way for me to actually give you the prize. Because when you play this game you are given a random name. Like, you know, lizard, duck. So I need to know who I'm giving the prize to. So I will need your email. I will never email you anything. It's just to tell you that you won and give you access to the account. Ok? Allora... Perfetto. Se non puoi usare il cellulare apri un altro tab. Apri due tab, uno con YouTube e uno con menti.com. Il codice è lì, il codice è lì. 775784. Esatto. Abbiamo 70 studenti pronti a partecipare. Bene. I premi. Parliamo dei premi. Alla fine del gioco la persona che arriva prima... La persona che arriva prima vince... Facciamo... Ok, vi faccio vedere una cosa. Ok. La persona che arriva prima... Dove sta, dove sta? Abbiamo questa ruota che... Ecco che non funziona qui. Aspetta, vediamo se ve la faccio vedere. Vedete questa ruota? Questa ruota decide il premio. Va bene? Quindi avete tutti la stessa possibilità di vincere. Allora, torniamo qui. Benissimo. Allora, abbiamo 88 partecipanti e siamo pronti. Quando cominciamo non puoi più entrare, ok? Devi cominciare all'inizio e arrivare fino alla fine. Questa è la regola del gioco. Devi partecipare a tutte le domande. Siamo pronti? Benissimo. Allora, sposto la chat qui. Quindi... La cosa importante è che adesso tu metti il tuo nome e email. Così io posso mandarti il premio e posso creare un account per te. Ho detto... Queste email non le uso per niente altro. Quindi non mando email e niente. Se vinci ti mando l'email. Se non vinci... Ciao, ok? Abbiamo 97 studenti e siamo 98. Siamo pronti per cominciare. Ok, adesso in questo punto sullo schermo tu vedi un'altra cosa per mettere il tuo nome. Questo è il nome che noi vediamo qui nel leaderboard. Per favore usa il tuo nome. Solo il nome? Solo il nome? Vero. Così io poi posso sapere ha vinto Natascia e poi vedo Natascia con l'email, ok? Quindi usa lo stesso nome. Intanto io mi faccio un piccolo bicchiere d'acqua. Quanto dura il test? Sono solo dieci domande. Sono dieci domande ma io... Ovviamente io sono insegnante. Io sono un insegnante incurabile e quindi spiego il perché. Non è soltanto un quiz, ta ta ta, ok? E io voglio insegnare. Questa è un'opportunità per insegnare l'italiano. Va bene? Ok, siamo pronti. Ok, basta, cominciamo. Adesso guarda il tuo telefono o la pagina dove tu hai menti.com, va bene? Se sei principiante partecipa lo stesso. Partecipa comunque. Ok, quando ero piccolo... Questa è la prima domanda. Quando ero piccolo... Guarda lo schermo. Ho giocato sempre a calcio. Giocavo sempre a calcio. Stavo giocando sempre a calcio. Stavo giocando sempre a calcio. Oh no, caldo. Calcio. E stavo giocando sempre a calcio. Quindi qual è la risposta giusta per questa frase per essere grammaticalmente corretta? Quando ero piccolo... Giocavo sempre a calcio. Esatto. Quando ero piccolo giocavo sempre a calcio. Abbiamo due azioni simultanee. Ero piccolo per molti anni e tutto il tempo giocavo a calcio. Abbiamo imperfetto, imperfetto. Sono due situazioni parallele. Ok? Benissimo. Giocavo sempre a calcio. Ok, qui abbiamo il leaderboard ma non importa. Pronti per la domanda numero due. Allora... Facciamo veloce. A Marco... A Marco... Si è piaciuta la pizza. Gli è piaciuta la pizza. Ci è piaciuta la pizza. O è piaciuta la pizza. Quindi a Marco si è piaciuta la pizza. A Marco gli è piaciuta la pizza. A Marco ci è piaciuta la pizza. A Marco è piaciuta la pizza. Qual è la risposta giusta? Questa è una domanda trabocchetto, una domanda un po'... Ok, allora. La risposta giusta è è piaciuta la pizza. Si è piaciuta la pizza è impossibile. Ci è piaciuta la pizza significa che noi, a noi è piaciuta la pizza, we like pizza. La risposta numero due, gli è piaciuta la pizza è ok ma è grammaticalmente sbagliata perché a Marco e gli significano la stessa cosa. E' come dire... a Marco significa to Marco e gli significa to him. Quindi è inutile ripetere la stessa cosa. Ok? Quindi la risposta giusta è a Marco è piaciuta senza la pizza. Senza il pronome. Perché il pronome sostituisce il nome. Ma il nome è lì, a Marco. Ok? Questa è la risposta giusta, complimenti. Avete risposto bene 40 persone, wow. Ok. Questa è un'opportunità per imparare, ok? Se è troppo difficile questa è un'opportunità per imparare. Domanda numero tre. Ho andato in vacanza in Italia. È giusto o sbagliato? Ho andato in vacanza in Italia. Questo è il 50% no? Vediamo un po'. È sbagliato perché questo è un passato prossimo, è il passato. I went to Italy in vacanza. Ma una cosa importante. Andare è un verbo che usa essere per formare il passato. Non usa avere. Io sono andato in vacanza. E una donna dice io sono andata in vacanza, ok? Quindi questo è il passato prossimo in italiano. Sì. Allora, continuiamo con la domanda numero quattro. Nooo. Allora, come si dice? Come si dice? Abbiamo uscito. Siamo uscito. Siamo usciti o abbiamo usciti. Questo significa we went out, ok? Come si... come si dice in italiano correttamente. Sono difficili? Eh... ho detto che è intermedio. Ok, allora. Siamo usciti è la risposta giusta. Esatto, allora. Il verbo uscire che significa to go out è un... è un altro verbo che usa essere nel passato. Quindi dobbiamo dire siamo, noi siamo usciti. Noi siamo usciti. 63 persone è buono. Non ti preoccupare se non hai risposta, ok? Indovina, indovina. Significa... Mentre tu... è arrivata Maria. Mentre tu cucinavi è arrivata Maria. Mentre tu hai cucinato è arrivata Maria. Mentre tu cucinando è arrivata Maria. Significa... Mentre tu cucinavi o mentre tu stavi cucinando sono due risposte possibili. Ricordatevi, l'imperfetto e la forma continuativa di stavi cucinando sono equivalenti. Quindi mentre tu cucinavi o mentre tu stavi cucinando è lo stesso significato praticamente. Benissimo. L'anno scorso mia sorella comprava una casa nuova, ha comprato una casa nuova o stava comprando una casa nuova. L'anno scorso mia sorella ha comprato una casa nuova, esatto. Perfetto. Perché? L'anno scorso nel passato lei ha comprato... in un momento ha comprato una casa. Quindi è un'azione che è cominciata e finita nel passato. E usiamo il passato prossimo, complimenti. Allora, chi... chi è in vantaggio? Uè... è difficilissimo. Ah no, ecco. Mark con poi Giovanna. Giovanna tu non sei italiana. Oh sì. Ok. Ok. Continuiamo, continuiamo. Allora io dovrei spiegare. Facciamo così. La prima persona vince il primo premio e puoi scegliere tu che cosa vuoi. Dopo abbiamo altre due persone, random, ok, che... che vincono un altro premio. Avete portato i regali a zia Maria? Avete portato i regali a zia Maria? Avete portato i regali a zia Maria? Sì, glieli abbiamo portati. Sì, se li abbiamo portati. Quindi... Sì, glielo abbiamo portato. Sì, ce li abbiamo portati. Quindi avete portato i regali a zia Maria? Come si dice... Qual è la risposta? Sì. Cosa? Avete portato i regali a zia Maria? Sì, glieli abbiamo portati. Perfetto. Questa è... è difficile. So did you bring the presents to zia Maria? Yes, we brought them to her. E abbiamo bisogno di due pronomi. Un pronome indiretto, gli, che significa a zia Maria. E un pronome diretto, li, che significa i regali. Questo è difficile. Quindi se avete risposto... Complimenti, complimenti. Allora... Continuiamo. Caterina, sei in prima posizione. Complimenti. Stuart, Mark. Perfetto. Continuiamo. Continuate a partecipare, ok? Studiando l'italiano... Studiando l'italiano è bello. Sì, è giusto o è sbagliato? Quindi è giusto o è sbagliato? Posso dire studiando l'italiano è bello? Si può dire sì o no? Allora, vediamo un po' la risposta. È sbagliato. Esatto. In inglese diciamo studying Italian is cool, ma in italiano non possiamo usare il gerundio, studiando, studiando come il soggetto di una frase. In italiano si dice... Si usa l'in... L'infinito. Studiare italiano è bello. To study Italian is cool, ok? Studiare e non studiando. Complimenti. Ok. Siamo pronti per la penultima domanda. Vediamo un po'. Quando studiavo matematica ero bravo, sono stato bravo o sono bravo. Quindi quando studiavo matematica ero bravo. Quando studiavo matematica sono stato bravo. Quando studiavo matematica sono bravo. Ero bravo. Esatto. Due imperfetti. Sono due... Di nuovo sono due situazioni simultanee. Studiavo matematica per molto tempo e in questo tempo ero bravo. Sono due situazioni parallele. Complimenti. Allora. Pronti per l'ultima domanda? Quindi questa è l'ultima domanda. Stuart is the fastest, è il più veloce. Ok. Quindi siamo pronti per l'ultima domanda. Questa deciderà il vincitore del primo premio. Ma poi gli altri due premi sono random. Ok? E... Lo facciamo dopo. Ok. Pronti per l'ultima domanda? Ieri i ragazzi hanno regalato delle scarpe alla sorella. Diventa. Ce li hanno regalati. Se le hanno regalate. Gliele hanno regalate. Le le hanno regalate. Le le hanno regalate. Ok. Quindi come trasformo? Ieri i ragazzi hanno regalato delle scarpe alla sorella. Yesterday the guys gifted some shoes to the sister. Or to their sister. Gliele hanno regalate. Esatto. È simile a prima. Ho bisogno di due pronomi. Un pronome indiretto per dire alla sorella. Di nuovo è ye perché alla sorella è a lei. E un pronome diretto per dire le scarpe. Che è le. Quindi gliele. Ok? Ok. So. Perfetto. Adesso prima di annunciare il vincitore. Prima di annunciare il vincitore. Questo è un quiz di livello intermedio. Quindi ovviamente è difficile ma la cosa buona è che il premio è che tu puoi fare i miei corsi per imparare a rispondere. Quindi tutto a posto. Cominciamo. Vediamo un po' chi ha vinto. Chi ha vinto. Ha vinto il signor Stuart. Il signor Stuart con 8224 punti. Complimenti a tutti perché siete stati bravissimi. Quindi il signor Stuart di tutte queste persone ha vinto il primo premio. Allora. Stuart, se sei lì dimmi che cosa preferisci. Oppure puoi mandarmi un'email. Allora, puoi vincere quindi un anno illimitato alla mia piattaforma dove puoi fare tutti i corsi che vuoi. Un corso, dieci corsi. Puoi fare quello che vuoi per un anno. Oppure puoi scegliere... Nessuno ti ha mai chiamato signor Stuart, lo so. Puoi scegliere di avere un anno di accesso a Amico Extra. Che quindi per un anno puoi parlare italiano con noi. Quindi dimmi nella chat che cosa vuoi. E poi io ti organizzo un account, ti mando l'account di quello che tu vuoi. Quindi scrivi nella chat che premio vuoi. E adesso parliamo a tutti gli altri cento persone che avete partecipato a questo gioco. Io non voglio perdere il messaggio di Stuart. Sì, ok, le opzioni. Un anno di accesso illimitato a tutti i miei corsi. Quindi puoi fare tutti i corsi che vuoi. Vai... Non devi decidere adesso. Vai su academy punto... academy.italmedeasy.com e decidi dopo, ok? So you can decide later. You... You can have access to all of my courses for a year. Or the other option is Amico Extra where you get to speak to Italians to us for a whole year. Using the video chat if you want. Either one... You can email me later, ok? Puoi mandarmi un'email dopo per dirmi la tua opzione. Ma adesso c'è la cosa buona perché tutti potete vincere. Tutti potete vincere e adesso facciamo l'estrazione, che si chiama così l'estrazione, dei premi. Quindi... Questo lo faccio dopo perché purtroppo non posso fare random picking adesso. Ma io manderò un'email... Facciamo così. Tre premi. Tre persone. Quindi... Stuart prende Amico Extra per un anno. Ottima scelta Stuart. Ottima scelta. Quindi Stuart potrà parlare italiano per un anno con me, Cristiana, Alessia e praticare l'italiano per tutto un anno gratis. E partecipare al master class e tutte queste cose. So... Congratulazioni Stuart. Just to make sure that everybody's understanding what's happening. Stuart chose to have access to Amico Extra for a whole year, which means that for a whole year he can speak Italian, practice Italian, video chat, audio chat, text chat with me and the Italian team of my academy. Complimenti Stuart. Ok? Adesso le opzioni per chi non ha vinto. Per chi non ha vinto. Allora... Siamo pronti? Abbiamo tre premi. Tre premi. Vediamo se io posso fare... Fammi provare. No, non credo di poter fare questa cosa... Un attimo, eh. Voglio capire se posso... No, non posso fare estrazione random così. Però lo voglio fare, aspetta un attimo, ok. Facciamolo, lo voglio fare, facciamolo. Facciamolo live che è più... È più interessante, no? Allora... Un attimo. Così... Così annunciamo il vincitore qui, live. Oh la tecnologia, complicato. Complicato. Ok, no. Non riesco ad aprire il file. Allora, lo facciamo dopo ma... La cosa che vogliamo fare è questa. Adesso abbiamo tre premi. Voi sapete che io sono onestissimo. Sempre onesto. Quindi abbiamo tre vincitori. Io estraggo tre premi. E poi assegniamo questi premi. Quindi per il primo premio... Il primo premio che daremo è un mese di amico extra. Quindi una persona di voi riceverà un'email da me con un mese di amico extra per parlare italiano per un mese, ok? Quindi questo è il primo premio. Secondo... Cioè è uno dei premi. Il secondo... Vediamo poi il secondo. Secondo... Un mese di amico extra, ok? E il... E il terzo? Il terzo? Un mese... Ok. No, no, non mi piace, non mi piace. No. Allora facciamo così. Facciamo così. Tre vincitori. Quindi abbiamo Stuart che ha vinto un anno di amico extra. Facciamo così. tre vincitori che vincono sei mesi di amico extra. Sì, un mese è poco. Facciamo sei mesi per tre persone, va bene? E io estraggo, prendo, scelgo queste random, queste tre persone e vi mando un'email. Vi prometto che queste tre persone riceveranno il premio. I promise that three people will get the prize. I cannot do the drawing right now. Technology is not working. Ok? Quindi... Facciamo così. Vi prometto che tre persone oltre a Stuart vincono amico extra per sei mesi. Stuart per un anno e tre persone per sei mesi. Ok? Quindi io vi ringrazio. È stato un piacere giocare con voi. Le domande sono difficili ma con i miei corsi, con From Zero to Italian, tu puoi imparare. Giusto? Quindi buona fortuna, buono studio. Ci vediamo prestissimo. Scusate per i problemi tecnici ma è la vita, giusto? Ah, la domanda. Quando sono in Italia? Io sono in Italia fra... Da martedì fino a settembre. Sono nella zona di Roma. Quindi se voi siete a Roma fatemi sapere, comunicate con me perché ci possiamo incontrare. Prendere un caffè a Roma, va bene? Grazie a voi. Buona notte se dovete dormire. Buona giornata se andate al lavoro. Ma no, è sabato. Se andate al... Vabbè. Fate quello che volete. 144 studenti hanno imparato un po' di italiano. Perlomeno hanno ascoltato italiano. If you didn't understand a single word, I congratulate you for sticking by because hearing Italian is just as useful as being able to understand it. Ok, grazie mille. Un bacio e alla prossima. Facciamo la... Oh, la sigla, la sigla. Grazie a tutti. No, lasciao. So, la sigla. Grazie a tutti.